Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in libertà. Eccoci nello spazio dedicato ai bambini e oggi siamo qui con tutti i nostri amicotti e con Stefania. Ciao a tutti! Ciao, ciao! Oggi ci siamo tutti! Ok, ok, ma perché ci siamo tutti, Sergio? E allora, e perché? Allora, dobbiamo cantare, devo cantare una canzoncina gioco e ho portato gli amici per giocare. Che bello! Ok, siamo tutti felici. Il leone stava già dormendo. No, sono sveglio. Ok, ok. Meno male, meno male. Va bene, allora mandiamo la sigla e svegliamo già. Qual è questa canzone? La danza del serpente! Ah, che bello! Ok, dopo la sigla! Bene, siete pronti per questa canzoncina? Sì, raccomando, fatelo anche voi! Ok, ok, vai Sergio! Voi siete pronti? Sì. Ok, bene. Dino, sei pronto? Eh, sì, sì. Ok, benissimo. Vai, Sergio! Questa è la danza del serpente che è in giù dai monti per ritrovare la sua coda che ha perduto un dì. Ma guarda un po', sei proprio tu, quel pezzettino del mio codi. Sì! Questa è la danza del serpente che è in giù dai monti per ritrovare la sua coda che ha perduto un dì. Ma guarda un po', sei proprio tu, quel pezzettino del mio codi. Sì! Ma guarda un po', sei proprio tu, quel pezzettino del mio codi. Sì! Bravissimo, Sergio! Che bello! Abbiamo creato un trenino! Bellissimo, si sono divertiti tantissimo! Grazie a Samantha! Brava Samantha! Brava! È bellissimo! Bravi tanti! Allora, bambini, appena sarà possibile che si potrà essere in tanti, poi fate un trenino lunghissimo con questa canzone. È bellissima! Grazie, Sergio! Di niente! È stata bellissima questa canzone! Bravo, bravo! Bene, benissimo, benissimo! Allora, noi poi ci vediamo... Domenico prossimo! Domenico prossimo! Ciao! Ciao a tutti, ciao! Ciao a tutti!